Ora scusatemi. Dunque, benvenuti questa sera alle dirette di Galatea, che come se avete seguito ieri la mia, diciamo, sono sbottata sui social, diciamocelo francamente, per cui questa diretta, questa sera, sarà una diretta un po' garibaldina, perché in realtà parte da una, come dire, sono entrata, non ero su Instagram, eccolo qui. Sono in diretta? No. Non so perché non sto andando su Instagram. Allora, vediamo un po'. Se riusciamo a far partire anche la diretta su Instagram, forse? No. Si è verificato un problema, non si sa perché. Ah, signor Benedetto, come sono felice quando c'è questo caos. Niente, su Instagram stasera non riesco ad andare, quindi proviamo a chiudere Instagram e ripartire. Amici di Instagram, io so che voi siete particolarmente felici, ma come al solito io non riesco a far partire mai queste cavolo di dirette regolarmente. Vediamo un po' partendo da qui. Non si capisce perché stasera ha deciso di non andare su Instagram. Niente, stasera non riusciamo ad andare su Instagram. Che bello! Allora, dunque, io non so perché siamo ridotti così. No, veramente, cioè non si... Video è in diretta? Dovrei andare in diretta, ma non vado. Datemi un segnale per piacere su Instagram se riusciamo a entrare da qualche parte. Se mi vedete, se mi riuscite a seguire su Instagram, se ci siete date un segno. No, non ci siete. Veramente io non so più cosa dire. Niente, Instagram stasera non funziona. Allora, lo togliamo direttamente, perché tanto non vale più la pena. Vediamo se riusciamo a far partire qualcosa. No. Ah, forse ho capito che cos'è il problema. Aspetta un attimo. Potrebbe essere dovuto al fatto che avevo messo... Eccolo qui. Forse ho capito cosa non funzionava. Forse ce la possiamo fare. Non è detto, eh. Ma mo' ci riproviamo. Scusatemi, io lo so che è brutto fare ste cose in diretta, ma del resto se non ti partono le cose sui social, non è che uno abbia delle grandi possibilità, perché purtroppo, se non gli partono le cose, una... Eccoci qui. Ragazzi, siamo in diretta che su Instagram. Ce l'abbiamo fatta! Allora, questa diretta, come ho detto, è partita in maniera un po' garibaldina, perché in effetti parte da uno scazzo, posso usare questo termine, tanto siamo tutti maggiorenni, che mi è partito ieri, quando ho visto un, diciamo così, un articolo che è stato postato su una rivista online di un giornalista di cui adesso io neanche faccio il nome, perché penso che non sia neanche giusto dare troppo rilievo anche a quei dieci quarto d'ora di celebrità a certe persone, anche se questo poi è un giornalista che ha, tra l'altro, un background abbastanza serio dal punto di vista culturale, il quale se ne è uscito con un articolo in cui parlava della letteratura femminile e diceva che in sostanza in Italia negli ultimi anni è vero che c'è un proliferare di scrittrici che riescono finalmente ad arrivare ai primi posti della classifica letteraria, delle classifiche dei libri più letti, però lamentava il fatto che questo grande successo di autrici erano tutte autrici di romanzi e quindi di romanzi, quelli che una volta si chiamavano i romanzi rosa e lamentava il fatto che come al solito le donne scrivono romanzi rosa, le lettrici che oggi sono la maggioranza in Italia leggono romanzi rosa, mentre gli uomini stanno un po' perdendo posizioni, ma anche perché gli uomini attraversano una serie di altri generi. E il sottinteso, non so neanche quanto consapevole da parte dell'estensore dell'articolo, era che in sostanza la letteratura italiana degli ultimi decenni è sì dominata da scrittrici, però diciamo così sono scrittrici che hanno questo grande favore di pubblico, perché appunto il pubblico è un pubblico oramai formato, quello dei lettori, per una vastissima maggioranza di donne e diciamo così che queste donne leggono romanzi rosa, per cui non è strano che le scrittrici abbiano appunto questo numero esagerato di lettori. Ora, ci sarebbero da dire molte cose su un articolo impostato in questa maniera, mi ha fatto venire i brividi, ma non perché sono una donna, io penso che chiunque lega quell'articolo dovrebbe sentire un senso di fastidio, se non altro perché secondo me le argomentazioni sono piuttosto risibili, anche male esposte, nel senso che non è chiarissimo dove si voglia andare a parare, o meglio, io credo che sia chiarissimo dove vada a parare, forse anche, ripeto, in maniera inconsapevole, perché alle volte credo che in taluni uomini, anche molto colti, il sessismo sia così radicato che nemmeno si rendono conto quando dicono delle cose profondamente maschiliste. Allora, quali sono gli errori di questo tipo di ragionamento? Beh, innanzitutto che è piuttosto offensivo, sia per le scrittrici sia per le elettrici, perché dire che le donne scrivono solo o principalmente rosa e che le donne leggono principalmente rosa non è una cosa sessista, è semplicemente una cosa falsa, dal punto di vista proprio della produzione. Anche perché poi tutti i nomi delle autrici che lui metteva in questo articolo, le scrittrici che venivano, come dire, additate come autrici di romance, in realtà non lo sono affatto, cioè non si può mettere nella stessa categoria, Elena Ferrante, tutta un'altra serie di autrici che hanno scritto dei romanzi che però non sono rosa, cioè neanche nel peggiore delirio, a parte il fatto che scrivere letteratura rosa comunque non è una cosa disdicevole, ma in ogni caso è proprio anche sbagliare il genere, perché sono semplicemente dei romanzi in cui c'è, sì, certo, una componente con una storia d'amore, magari anche importante, ma tra l'altro questo da solo mai e poi mai, nemmeno nella definizione della letteratura rosa, diciamo così, è mai bastato per etichettare un romanzo come facente parte del genere rosa. Allora, affrontiamo un po' di questi problemi, non tanto partendo dall'articolo, ma chiarendo proprio alcune cose che spiegano anche il ruolo e la funzione che hanno avuto fino ad oggi nella letteratura le donne e spiegano anche perché sia peraltro una clamorosa bufala, prima di tutto dire che scrivono soltanto romanzi rosa, è proprio una deformazione dovuta ad un pregiudizio di fondo. Allora, innanzitutto, cosa si intende per romance? L'autore dell'articolo fa anche una certa confusione fin dall'inizio, perché dice che il romance è la letteratura intimista, che tecnicamente sono due cose diverse. Allora, la letteratura intimista è una letteratura dove si parla principalmente nei propri libri di sentimenti e di emozioni. Il romance è un preciso genere letterario, quello che una volta veniva indicato come romanzo rosa, e già non si usa più il termine romanzo rosa perché è offensivo e sessista, proprio perché non c'è nessun motivo per cui il romanzo rosa debba essere scritto da una donna, potrebbe essere scritto tranquillamente da un uomo. Anzi, vi do una notizia sconvolgente, molte delle autrici che scrivono romance e che si presentano con un nome femminile, alle volte sono degli uomini che scrivono dei romanzi rosa, ma proprio per sempre, per il solito pregiudizio sessista, non lo pubblicano con un nome maschile, ma lo pubblicano con uno pseudonimo femminile. E sarebbe divertente, perché molto spesso anche, diciamo, l'archetipo di questo tipo di letteratura, che sono poi i romanzi armoni, che poi spesso sono delle ottime opere di artigianato, in realtà sono anche scritti da uomini, solo che appunto sono uomini che prendono un pseudonimo femminile. Che cos'è il romance? Allora, il romance non è letteratura intimista. Il romance è un preciso genere letterario in cui abbiamo una storia d'amore e una storia d'amore generamente a lieto fine. Quindi alla fine il protagonista e la protagonista, o anche, perché oggi ovviamente il romance si è aperto anche agli altri orientamenti sessuali e quindi abbiamo anche i due protagonisti maschi, le due protagoniste femmine, si innamorano e alla fine, diciamo così, si sposano, vanno a convivere insieme, insomma, la storia d'amore finisce bene. È generalmente un tipo di genere letterario, diciamo così più leggero, nel senso che si tratta di un genere letterario in cui la storia d'amore può avere anche delle caratteristiche drammatiche molto forti, ma appunto alla fine si risolve bene, spesso anche le caratteristiche di questi personaggi sono, diciamo, non particolarmente ricercate, ci sono anche molti stereotipi, ma in linea generale nulla vieta che un romance esattamente come un fantasy, esattamente come un thriller, esattamente come un qualsiasi altro genere letterario possa essere un capolavoro della letteratura. Questo perché oramai è chiaro a chiunque si occupi di letteratura, ma che sia un semplice lettore, che non è mai il genere del libro a determinare la sua capacità di essere scritto bene. Ci sono dei grandi capolavori, prendiamo Il Signore degli Anelli, che sicuramente è un fantasy, e che è però un assoluto capolavoro nel suo genere, ma anche un capolavoro punto e basta della letteratura, perché è scritto divinamente bene. Ci sono, non so, i gialli di Raymond Chandler, nessuno si sognerebbe di dire che sono un genere minore, perché Chandler è sicuramente un grande della letteratura americana. Quindi, oramai il Novecento, e quindi a maggior ragione il Ventunesimo secolo, dovrebbe aver superato questo pregiudizio di fondo che esiste una sorta di letteratura alta in cui i libri non hanno un genere letterario, sono semplicemente capolavori della letteratura, e poi esistono i generi letterari, che sono il giallo, il thriller, il fantasy, il romance, o qualsiasi altra cosa vi venga in mente, lo spionaggio, qualsiasi altra variante di genere vi possa venire in mente, che sono sostanzialmente pattume, cioè destinati ad un pubblico di bocca buona, allora questo non è assolutamente vero. Il genere letterario non determina e non influenza la validità letteraria di un libro, quindi io posso scrivere un grande capolavoro della letteratura mondiale, per dire, anche decidendo di scriverlo dentro al genere romance. Scrivo una meravigliosa storia d'amore, va a finire bene, perché non è detto necessariamente che i libri della letteratura alta debbano per forza finire male o come una tragedia, però lo scrivo così bene che diventa un classico per sempre. Cosa pesa invece sul romance? Perché per tutti gli altri generi letterari oramai questo è pacificamente accettato e invece la letteratura romance resta sempre una sorta di sgabuzzino della letteratura in cui finiscono le autrici che raccontano storie d'amore. Perché è scritta da donne, non c'è altro, è scritta quasi sempre da donne e il pregiudizio su quello che viene prodotto dalle donne è talmente forte e alle volte talmente inconscio nella testa di alcune persone che anche se non se ne rendono minimamente conto quando una donna, il genere romance essendo un genere femminile, sembra che non possa mai diventare alta letteratura. Proprio è come se ci fosse una sorta di preclusione. Il romance è il romanzo per le servette. Ecco, già questo è sbagliato come impostazione perché appunto non è vero, non è detto che un'attrice che decida di scrivere un romance non sia in realtà un'ottima letterata e che quindi il suo romanzo possa dare la birra a qualsiasi altro romanzo. Ma c'è anche un altro pregiudizio proprio perché è un genere molto femminile e che da sempre è stato scritto da donne automaticamente è venuta fuori la bizzarra idea in molti che qualsiasi cosa sia scritto da una donna sia necessariamente un romance. Cioè, qualsiasi tipo di romanzo una donna si mette a scrivere anche se c'è una storia d'amore ma ripeto, non basta questo perché sia un romance automaticamente viene cacciata nel limbo della letteratura rosa e una volta che ti hanno appiccicato addosso il bollino di scrittrice di romance o di scrittrice di letteratura rosa è diciamo così come una sorta di peccato originale non viene più presa in considerazione non viene più considerata una scrittrice valida o meglio, si può essere bravina a scrivere però sei una che scrive romance. Insomma, è una sorta di cane che si mangia la coda. Tra l'altro finiscono nella letteratura rosa o sono finite per lungo tempo nella letteratura rosa anche grandissime per dire, i libri di Jane Austen che sono dei capolavori assoluti rispecchiano in realtà tutti i canoni della letteratura rosa perché abbiamo al centro una storia d'amore che quasi sempre finisce bene per cui alla fine i protagonisti si sposano tra l'altro sono dei libri anche connotati da una certa leggerezza che non è appunto superficialità ma che è leggerezza e quindi molto spesso Jane Austen viene considerata la capostipide della letteratura rosa il che è una grandissima scemenza perché oltretutto, ripeto è una grandissima autrice punto e basta ma ci sono voluti decenni per non dire quasi un secolo perché le venisse riconosciuta questa centralità anche all'interno della letteratura e qui spero che mi stia guardando Anna De Pascalis che è una mia amica che è un'appassionata di Jane Austen e su cui abbiamo fatto una diretta anche su questo allora, che cosa succede? quindi c'è un enorme cortocircuito ma in realtà appunto il romance è un genere letterario in cui c'è una storia d'amore e che in genere va anche a finire bene nel senso che i due si sposano il che vuol dire che tutti i libri scritti da donne in cui ci sia una storia d'amore o tutti i libri punto e basta in cui ci sia una storia d'amore sono romance no e infatti gli uomini possono scrivere tranquillamente dei libri in cui ci sono delle storie d'amore anche se vanno a finire bene perché, ripeto non solo finiscono tutti necessariamente in tragedia ma nessuno di loro viene mai neanche lontanamente messo in dubbio che lui faccia parte della romance o della letteratura rosa perché lui è un uomo quindi non può scrivere per definizione romance e letteratura rosa al massimo scrive narrativa in generale allora voi capite che già se l'impostazione è questa è un'impostazione fondamentalmente sballata proprio sballata perché non ha nessun fondamento logico ed è fondata su un chiaro pregiudizio di genere ecco tutto l'articolo di questo simpatico giornalista sostanzialmente era basato su questo equivoco qui cioè lui dà per scontato ed è evidente anche dal catalogo di autrici che dopo cita che per la sua testa tutto quello che viene scritto dalle donne in qualche modo è romance lui ammette che alcuni di quei libri e di quelle autrici che cita scrivono altri generi perché dice sì perché ci sono anche autrici che vanno a quello che potrebbe essere un thriller che potrebbe essere un giallo ma comunque c'è una storia d'amore e a te viene da dire ok cioè anche dentro a Chandler per esempio che scrive dei gialli e sono dei capolavori abbiamo detto della letteratura c'è una storia d'amore Marlow si innamora di quasi tutte le protagoniste che incrocia anche nei libri di Vasquez Montalban che sono dei thriller e dei gialli persino in Camilleri ci sono delle storie d'amore quindi se noi dovessimo usare per i maschi lo stesso criterio che lui ha usato per le donne dovremmo dire che Chandler Montalban e Camilleri hanno scritto del romance con delle venature gialle se l'avesse scritto così gli avrebbero riso dietro perché la cosa non si tiene se invece lo fa per le donne va bene perché tanto le donne è chiaro che possono solo scrivere dei sentimenti incidentalmente nelle loro trame può esserci anche qualcos'altro cioè se fosse stata una donna a scrivere il nome della rosa siccome c'è una scena d'amore e di sesso probabilmente avrebbe detto che quella è letteratura rosa che dirà vagamente verso il thriller allora voi capite che una classificazione di questo genere non è neanche sessista è proprio semplicemente sbagliata e sballata perché non ha senso di per sé ma poi ripeto è anche proprio sbagliato l'idea che le donne scrivano romance o che scrivano solo quello o che quello sia il loro principale genere letterario perché è semplicemente una balla colossale allora innanzitutto c'è questa strana anche idea che le donne siano un fenomeno letterario recente in quell'articolo un'altra delle cose che colpisce è che sembra che le donne abbiano cominciato a scrivere da vent'anni trenta al massimo cioè prima c'erano solo gli scrittori maschi poi improvvisamente adesso sono venute fuori le donne anche questa è una distorsione molto maschilista della storia della letteratura perché noi da quando esiste la scrittura siamo pressoché certi che ci siano state delle donne scrittrici addirittura il sospetto è che ci siano state delle donne che praticamente hanno inventato la letteratura nel senso che in realtà la prima autrice con nome quindi identificata il primo autore per essere più chiari visto che bisogna usare il maschile inclusivo se non sembra che parliamo solo di scrittrici no no proprio la prima autrice scusate i capelli che stanno andando ovunque la prima autrice di cui noi abbiamo notizie quindi il primo autore letterario ecco di cui abbiamo notizie sappiamo che è esistito davvero io non so come dirlo al giornalista estensore dell'articolo ma era una donna nel senso che il primo testo letterario di cui sappiamo l'autore è un inno anzi una serie di inni alle divinità mesopotamiche che è stato scritto da Eneduan mi perdoni non la pronuncia gli esperti di storia della mesopotamia perché il mio accadico e la mia pronuncia delle lingue mesopotamiche è un pochino arrugginita chi era Costei era una sacerdotessa della dea Ishtar che è l'equivalente della dea che dopo i greci chiameranno Afrodite che era la principale divinità di Uruk la dea protettrice della città che era una dea molto ampia per le sue competenze perché non era soltanto la dea dell'amore come sarà Afrodite ma era anche la dea della guerra degli stratagemmi e la protettrice dei grandi imperi e Eneduan che era la gran sacerdotessa del tempio di Uruk del principale tempio di questa città le dedicò appunto in quanto divinità poliade una serie di inni peraltro ringraziandola perché la vita di Eneduan era stata particolarmente complicata lei probabilmente da quello che riusciamo a capire era la figlia di Sargon di Akkad che era stato il fondatore dell'impero e ad un certo punto della sua vita questa donna che doveva essere una donna particolarmente tosta diciamo così ed era appunto la principale sacerdotessa del tempio fondamentale per la città per la capitale si trovò coinvolta in una rivolta contro il padre fu costretta addirittura per un periodo ci racconta nelle sue opere a fuggire dalla città e poi riuscì invece a sconfiggere questo usurpatore e in pratica riportare la legalità e la sua dinastia sul trono e questi inni che lei scrisse erano proprio un modo per ringraziare la divinità che l'aveva protetta questa donna è un'autrice ed è la prima poetessa della cui esistenza siamo certi vi faccio notare che siamo in un'epoca arcaicissima noi siamo certi dell'esistenza di Enne Duanna non siamo certi dell'esistenza di Omero perché come sapete Omero è un nome diciamo così vuoto nel senso che è un nome che dovrebbe identificare l'autore dell'Iliade e dell'Odissea ma in realtà come abbiamo già spiegato in altre dirette non era probabilmente un solo poeta perché i poemi non sono frutto della stessa mano quindi possiamo dire che Omero non esiste Enne Duanna sì quindi una delle prime testimonianze letterarie è scritta da una donna e di sicuro non è un romance ma nel corso della storia le donne che hanno scritto sono state tantissime sono state tante diciamo così in percentuale sono certo sono poche quelle di cui abbiamo le opere perché effettivamente ce ne sono giunte molte poche e quelle di cui abbiamo notizia per cui noi dobbiamo sempre immaginare che le donne di cui abbiamo le opere e viene ricordato il nome fossero probabilmente anche una punta dell'iceberg e che ce ne siano tantissime che non sono neanche state conosciute questo comunque uno può sempre dire erano poche certo che erano poche anche perché parliamo di epoche in cui non dimentichiamo l'accesso alla scrittura l'imparare a leggere a scrivere era già fortemente limitato per i maschi perché evidentemente soltanto una parte molto piccola della popolazione poteva studiare e imparare a leggere a scrivere e quindi tanto più a comporre ma delle donne ancora meno perché appunto l'accesso all'istruzione è sempre stato per le donne doppiamente e anche triplamente alle volte difficile ciò nonostante nonostante non avessero possibilità di istruirsi nonostante la società non apprezzasse una donna intellettuale e quindi non favorisse certamente la produzione di opere da parte di donne nonostante tutti questi enormi paletti che limitavano l'accesso femminile alla produzione letteraria noi abbiamo tantissime autrici in ogni secolo il che vuol dire che le donne sono sempre state una parte consistente della della letteratura hanno prodotto opere e hanno prodotto opere di ogni genere nell'antichità persino nell'antica Grecia che diciamo così dal punto di vista del sessismo era uno dei peggio posti che si potessero immaginare noi abbiamo notizie di donne peraltro che scrivono anche opere matematiche come Ipazia famosissima Ipazia viene sempre ricordata principalmente perché è stata massacrata dai cristiani fanatici ma appunto è stata massacrata perché era una scienziata una matematica e una filosofa le cui opere erano stimatissime e aveva tra l'altro discepoli come sinesio di Cirene che pure erano cristiani quindi voglio dire era una donna in grado anche di attirare persone in maniera trasversale e forse è stato questo che ha causato la sua condanna perché quello che dava veramente fastidio era la capacità di questa donna di essere riconosciuta come un punto di riferimento per i pagani ma anche per i cristiani più illuminati della sua epoca abbiamo Tiano la figlia di Pitagora abbiamo la famosa diottima di cui ci parla Platone nei suoi dialoghi che è sicuramente un nom de pluma cioè un pseudonimo per indicare una donna che non riusciamo esattamente ad identificare forse era spasi alla moglie di Pericle forse era un'altra filosofa del tempo ma che comunque a cui comunque viene riconosciuto lo status di filosofa e li viene riconosciuto da Socrate quindi non dal primo che passava per la strada ma soprattutto anche nei secoli che noi identifichiamo come i secoli più oscuri quelli del medioevo abbiamo tantissime testimonianze di poetesse di scrittrici anche molto consapevoli del fatto che le donne hanno una loro per peculiarità quando trattano temi letterari non c'è soltanto Cristiane de Pisan che insomma è abbastanza nota proprio per aver scritto su questa tematica cioè per aver raccontato anche trattato il tema della donna in letteratura ma abbiamo per esempio Anna Connena autrice peraltro di una biografia del padre di un poema quindi una donna principessa ovviamente perché quasi tutte nel medioevo fanno parte delle classi colte ma insomma ne citiamo altre Maria di Francia la figlia di Eleonora d'Aquitania che scrisse dei poemi e fu protettrice di artiste la stessa Eleonora d'Aquitania probabilmente poetava ci sono tantissimi esempi appunto di donne sia nel medioevo sia nel rinascimento che furono delle letterate scrissero delle opere si posero anche problemi tecnici di letteratura e quindi sicuramente non si occupavano semplicemente di scrivere romanzetti rosa come vorrebbe sottintendere qualcuno certo parlavano di temi d'amore ma quello l'hanno sempre parlati tutti i poeti voglio dire Saffo scrive una poesia in greco che poi viene ripresa da Catullo a dimostrazione che la tematica d'amore è assolutamente trasversale nella letteratura così come l'indagine sui propri sentimenti quando il famoso giornalista dice che la letteratura intimista è sempre stata una particolarità delle donne mi verrebbe da dire e allora il canzoniere di Pedrarca che diavolo è l'ha scritto sua moglie perché cioè lì siamo all'intimismo nella migliore delle sue delle sue come dire espressioni cioè non si capisce perché se il temi dei sentimenti e dell'amore anche dell'amore travolgente viene trattato da un uomo è letteratura o narrativa o comunque non è di genere se lo tratta una donna è letteratura rosa a me questa cosa resta parecchio sullo stomaco scusatemi ma è una questione proprio di logica non ne sto facendo una questione di sessismo è che se si imponta un parametro deve essere un parametro che vale per tutti allora se decidiamo che chiunque parla di sentimenti e di amore è romance scrive romance o comunque scrive poesia intimista eccetera allora dobbiamo accettare che metà della letteratura mondiale è romance la vita nuova allora dovrebbe essere una letteratura femminile cioè non si scappa da questa cosa perché se si impronta un parametro deve essere valido per tutti non può essere valido soltanto per le autrici femmine come dire il problema anche a cui prima accennavamo scusate bevo un attimo perché se no non arrivo alla fine della diretta abbiate pazienza ecco le donne hanno sempre scritto e le donne sono sempre state interessate alla letteratura sono state parte attiva nella letteratura perché allora chiederanno vabbè però insomma diciamocelo francamente è una moda quella perché io me le sento poi dire nei commenti ogni volta che faccio una diretta su questo tema ogni volta che scrivo un post su questo tema c'è sempre il genio di turno che ho anche più geni di turno perché io ho capacità di attirarli soprattutto nei commenti che cominciano a dire e va bene però insomma adesso è diventata una mania state esaltando quelle 3-4 autrici in realtà erano pochissime non hanno scritto opere fondamentali perché poi alla fine sì le grandi opere letterarie sono altre le donne in sostanza erano minori e diciamo così questo è dimostrato anche dal fatto che hanno avuto pochissimo seguito che è un altro di quegli argomenti del cavolo allora innanzitutto ripeto erano poche perché non avevano accesso all'istruzione già i maschi l'avevano pochissimo nel senso che bisognava essere ricchi o molto fortunati per riuscire a avere un'istruzione prima dell'età contemporanea diciamo prima degli ultimi cent'anni ecco e comunque per le donne era estremamente difficile anche perché non si pensava che ne avessero bisogno quindi anche i bambini maschi venivano mandati anche a scuola magari nei conventi dai parroci imparavano a leggere e scrivere le donne no quindi insomma una scrittrice una poetessa diciamo così ha una certa difficoltà in più se neanche sa leggere e scrivere secondo pesa sulla letteratura femminile nel senso di scritta da donne qualsiasi genere facciano chiamiamola così nella letteratura scritta da donne pesa il fatto che c'è appunto questo continuo pregiudizio nei confronti delle scrittrici per cui le donne erano considerate di per sé meno autorevoli e meno interessanti anche perché all'epoca poi il pubblico era costituito quasi sempre esclusivamente da uomini proprio perché anche loro erano gli unici che scrivevano che leggevano che sapevano leggere ecco in secondo luogo ripeto c'era questa svalutazione a prescindere se l'ha scritto una donna è una cretinata se l'ha scritto una donna non vale la pena questo peraltro ha influito molto anche sulla capacità di incidere delle opere scritte da donne perché mentre l'opera scritta da un maschio partiva già diciamo così avendo superato non avendo questo pregiudizio quindi veniva valutata per quello che era una opera scritta da donne veniva valutata già meno in partenza quindi automaticamente veniva considerata scritta peggio piena di difetti non all'altezza eccetera questo poi influiva non soltanto sul suo successo immediato ma per esempio nel caso banale dell'epoca in cui le opere andavano ricopiate a mano anche sulla sua trasmissione noi purtroppo abbiamo notizia di numerose poetesse per esempio dell'antichità di cui sappiamo presso a pochi nomi perché in realtà non ci sono giunte le loro opere perché? perché essendo considerate minori perché erano donne nessuno le aveva più ricopiate o ne avevano fatte pochissime copie e quindi sono andate perdute anche nel medioevo le opere di donne avevano una circolazione molto minore e così per tutto il resto ma questo pregiudizio era così diciamo così radicato che addirittura uno studio di qualche anno fa era stato inviato ad una serie di case editrici in America un manoscritto lo stesso identico manoscritto una volta con un nome maschile e una volta con un nome femminile era stato scritto da una donna ovviamente dunque i manoscritti che erano stati inviati con il nome femminile sono stati rigettati quasi totalmente e le critiche erano ferocissime a quei testi e si diceva che non andavano bene che i personaggi erano mal gestiti eccetera bastava però inviarlo con un nome maschile quindi quando è stato inviato invece con un nome maschile esattamente lo stesso manoscritto ha ricevuto invece una serie di proposte di pubblicazione quindi vuol dire che nella testa anche dei selezionatori dei redattori delle case editrici magari in maniera del tutto inconscia quando trovano un maniscritto femminile o perlomeno quando fino a qualche anno fa veniva proposto un testo scritto da una donna come dire erano più severi nel giudizio e probabilmente erano meno disposti a pubblicarlo e questo invece è un caso storico quello della Rawlings autrice di Harry Potter che appunto ricevette una serie infinita di rifiuti prima di trovare la casa editrice che le pubblicava che aveva deciso di pubblicare il primo volume di Harry Potter ma soprattutto il volume uscì con soltanto le iniziali della Rawlings questo perché era un fantasy era un fantasy che all'epoca era un genere esclusivamente maschile e gli editori pensavano che il pubblico non avrebbe letto volentieri un fantasy scritto da una donna soprattutto visto che il protagonista era un ragazzino maschio e quindi le chiesero non di usare uno pseudonimo maschile ma di usare soltanto le sue iniziali in maniera che non fosse così palese che lei era una donna e infatti si è scoperto che era una donna soltanto quando il libro ha cominciato ad avere un grande successo allora questo per dire che alcuni pregiudizi nella valutazione sono così radicati ma sono radicati nelle teste di tutti cioè io vengo da una generazione oramai ho la mia età in cui era normale sentir dire da uomini e anche da donne io non leggo autrici donne perché non mi piacciono danno troppo spazio ai sentimenti sono troppo romanticose non mi piacciono non hanno uno stile che mi si confà e così via solo per il fatto che erano donne quindi senza neanche dare loro una possibilità poi c'è anche il fatto che dice sì ok va bene però in fondo le donne parlano più di sentimenti rispetto agli autori maschi perché e anche in quello c'è un motivo storico un autore qualsiasi autore tende a parlare di quello che conosce i maschi per lungo tempo nella nostra cultura e nella nostra storia hanno potuto sperimentare molte cose potevano andare in battaglia potevano occuparsi di politica potevano occuparsi di arte potevano vivere le loro vite in di commercio di viaggi in qualsiasi ambito diciamo l'esperienza umana possa aver creato le donne no molto banalmente il nostro la nostra esperienza di vita era un'esperienza più limitata non potevamo muoverci o perlomeno molto meno dei maschi non avevamo esperienza diretta della guerra eravamo escluse dal potere dalla politica di che diavolo dovevamo parlare di quello che noi potevamo conoscere quindi della vita di famiglia dei sentimenti eventualmente della religione perché quella è una delle poche pochi ambiti in cui potevamo in qualche modo arrivare anche se sempre a livello molto basso ovviamente per cui è ovvio che le autrici femminili si possono specializzare a raccontare dei frammenti di società che sono quelli che loro possono conoscere e sperimentare nella loro vita è difficile che una donna possa scrivere un trattato di politica perché raramente le donne avevano il potere e la capacità di gestirlo è difficile che una donna possa scrivere un trattato di arte militare visto che semplicemente non ci facevano andare in guerra e anche qui ci sarebbe un grosso una grossa parentesi da fare cioè io ogni tanto sento alcuni maschilisti insomma e vabbè ma voi cosa volete dire non andate in guerra in fondo siete state fortunate nate per secoli non ve l'abbiamo chiesto noi non ce l'avete lasciato fare cioè io penso che insomma Giovanna d'Arco e tante altre donne che hanno partecipato alla guerra abbiano ampiamente dimostrato che possiamo combattere se ci piace e credo che sia anche un pregiudizio molto maschilista quello di pensare che le donne non siano brave e che non siano interessate alla guerra è vero che forse noi donne siamo meno portate alla violenza e forse siamo meno portate a dichiarare guerre o almeno tendenzialmente avendo dei livelli ormonali un po' diversi tendiamo a tentare più delle soluzioni diplomatiche questo è vero però non c'è nessun motivo per cui non possiamo combattere semplicemente non ce l'hanno lasciato fare io infatti adesso che gli eserciti sono aperti il numero delle donne che si arruola è abbastanza alto quindi c'è una certa anche portata come dire anche un interesse da parte delle donne a combattere quindi non è neanche vero che non vogliamo che siamo state fortunate perché non andavamo in guerra non ce l'avete lasciato fare cioè se no l'avremmo fatto come in genere poi facciamo tutto quello che dobbiamo fare nella vita ecco chiusa questa parentesi perché poi è una battuta che viene fatta regolarmente nei commenti tra l'altro da maschi che credo non abbia neanche mai fatto un giorno di servizio militare perché poi fa anche ridere molto questo ecco in ogni caso ripeto gli ambiti delle donne che le donne potevano raccontare per una loro esperienza diretta erano molto più limitati e meno numerosi di quelli degli uomini quindi non è strano che la letteratura femminile si sia in qualche modo specializzata perché erano le uniche parti della vita che conoscevamo meglio tant'è vero che non appena ci hanno lasciato fare un po' di tutto abbiamo cominciato a scrivere thriller a scrivere gialli a scrivere libri d'avventura a scrivere fantasy perché non appena ci danno la possibilità di vedere di fare qualcos'altro noi lo facciamo ma semplicemente perché siamo degli esseri umani quindi siamo portati a fare un po' di tutto non c'è un genere maschile è un genere più femminile tutto questo come dire perché in realtà ripeto quell'articolo è soltanto uno spunto perché in qualche modo è riuscito ad essere un perfetto condensato di una serie di stereotipi di sessisti e di pregiudizi che purtroppo ancora oggi sono molto non detti cioè rimangono sotto traccia influenzano il modo di percepire e di giudicare delle persone anche donne perché molto spesso i pregiudizi sono trasversali in questo ma proprio perché non vengono mai esplicitati e non vengono mai analizzati profondamente continuano a scavare nel profondo e alla fine vengono accettati perché sembrano corretti sembrano logici sembrano confermati dall'esperienza mentre in realtà questi sono degli schifosissimi pregiudizi altro grossissimo pregiudizio perché ho detto quell'articolo riusciva ad offendere in ugual maniera sia le autrici sia le lettrici dicendo che in sostanza il grande successo dei romance è perché adesso le donne leggono di più allora le donne effettivamente sono il nucleo dei lettori forti in Italia un po' in tutto il mondo ma soprattutto adesso in Italia la stragrande maggioranza dei lettori sono donne e anche qui ci sarebbe da chiedersi perché e soprattutto ci sarebbe da capire come invece portare anche gli uomini a leggere perché gli uomini leggono pochissimo o perlomeno rispetto a noi ma quello che è assolutamente sbagliato è pensare che le donne leggono principalmente romance non è vero? cioè le donne essendo proprio la stragrande maggioranza dei lettori leggono di tutto anche perché hanno molti meno pregiudizi degli uomini e leggono spesso anche autori maschi quindi loro spaziano dappertutto certo la stragrande maggioranza delle donne che legge Roma dei lettori che leggono romance sono donne ma quello non è un problema del sesso di appartenenza è un problema di stereotipo culturale perché proprio perché lo stereotipo contro il romance è fortissimo difficilmente un maschio pure se gli piace il genere si farebbe mai beccare a leggere un romanzo tra virgolette rosa anche perché subito sarebbe oggetto di battutacce e di insinuazioni quindi il fatto che le lettrici di romance siano quasi tutte donne è vero ma perché noi siamo l'unico sesso autorizzato a leggere quel tipo di libri perché i maschi meglio non lo leggano ecco non sono abituati non è considerato lecito per loro leggere quel tipo di letteratura lì ma non è vero che le donne leggono principalmente romance le donne leggono di tutto altrimenti saremmo il collasso del mondo editoriale perché siamo noi che in realtà adesso stiamo tenendo sulle case editrici quindi anche lì tutto l'articolo si gioca su una serie di paralogismi scusatemi devo continuare a bere se no mi strozzo che come dire sono dei ragionamenti che se li lasci fluire così sembrano logici in realtà sono un cumulo di stupidaggini peraltro non verificate allora le donne non leggono principalmente romance le donne leggono di tutto i lettori che scelgono i libri romance sono quasi sempre solo donne ma questo ripeto per uno stereotipo culturale che spinge gli uomini a non leggere quel tipo di libri o se li leggono a negarlo perché dicono no l'ho preso per mia moglie oppure proprio a evitarlo come la peste per evitare tra l'altro di essere poi bullizzati per essere dei lettori di quel tipo di libro lì ecco quindi come dire quell'articolo è un esempio di lente deformante cioè alle volte noi viviamo in una società e questo molti non lo vogliono sentir dire ma il fatto che non lo vogliate sentir dire non vuol dire che non sia vero viviamo in una società dove ci sono ancora dei fortissimi stereotipi e dei pregiudizi sessisti che purtroppo funzionano sia nella testa degli uomini sia nella testa di noi donne perché anche noi donne siamo state allevate e cresciute dentro questa società e alcune cose le abbiamo proprio introiettate le abbiamo le abbiamo assorbite con latte materno per dire tutti questi pregiudizi lavorano nella nostra testa e spesso noi non ne siamo assolutamente consapevoli per cui alle volte finiamo per dire o per scrivere come in questo caso una serie di ragionamenti che sembrano apparentemente dei ragionamenti logici obiettivi e privi di pregiudizi appunto un'analisi dei dati che comunque questo articolo mancavano anche quindi non è che ci fossero dei dati citati o degli studi ma ripeto sembrano un'analisi logica dei dati in realtà sono semplicemente un condensato di pregiudizi che però noi non possiamo non ci accorgiamo che sono tali perché siamo abituati a considerarli a considerarli logici e che il mondo vada così allora il compito della buona letteratura e anche della buona critica dovrebbe essere invece combattere contro i pregiudizi e quelli che avevamo chiamati i bias cognitivi altrimenti non si capisce a che diavolo serve e smantellarli segnalarli saperli almeno riconoscere sia in noi stessi sia negli altri io credo che ragionare su queste cose sia importante e soprattutto credo che sia necessario perché altrimenti rischiamo di credere ad un'immagine della società e ad un'immagine degli individui perché quando poi si dice le donne sono così gli uomini sono così le donne scrivono determinate cose pensano in una determinata maniera gli uomini pensano in quell'altra maniera lì pensano ad altre determinate cose differenti per carità in realtà si fa un pessimo servizio sia alle donne sia agli uomini noi donne ovviamente perché rimaniamo schiave schiacciate da questi pregiudizi ma anche gli uomini restano così cioè sono costretti a rispondere ad un'immagine che in realtà non è la loro e che li costringe ad essere in una modalità che non è quella che li rende felici quando si parla di patriarcato e adesso lo so che si scatenerà il disastro nei commenti perché patriarcato è una di quelle parole che basta citarle un attimo e non so sembra che tu abbia detto una bestemmia in pubblico arrivano le armate di assatanati il patriarcato danneggia tutti anche gli uomini perché loro stessi sono costretti ad obbedire e a diventare simili ad un'immagine che in realtà è un'immagine non è quello che loro sono realmente non rappresenta la loro fra virgolette natura in realtà loro non sono così sono degli esseri umani potrebbero essere in tantissime maniere differenti ma la visione patriarcale ha in qualche modo cristallizzato alcune caratteristiche dicendo che gli uomini devono essere in una certa maniera e le donne in un'altra bloccando entrambi in un possibile sviluppo allora quando noi feministe donne o persone di buon senso e basta segnaliamo l'errore che c'è alla base di questo tipo di articoli di questo tipo di ragionamenti non è perché stiamo facendo una battaglia contro i maschi perché stiamo cercando di parlare di superiorità femminile non è questo è semplicemente ragionare per cercare di abbattere una serie di pregiudizi e di stereotipi che sta rovinando la vita a tutti noi che uno sia maschio che uno sia femmina che uno voglia essere qualsiasi altra cosa perché appunto sono stereotipi e sono un po' come il letto di Procuste in cui tu sei costretto a diventare di una certa misura e di una certa forma anche quando quella misura e quella forma non vanno bene per te allora io credo che la buona letteratura la buona critica la buona storia anche sia proprio cercare di togliere dalla testa delle persone tutti gli stereotipi che impediscono di vedere la realtà anche perché impediscono alle persone di fare quello che dovrebbe essere lo scopo della vita e cioè essere felici e trovare la pace con se stessi pertanto io credo che parlare di letteratura e definire le donne che scrivono come se scrivesero tutte solo un genere letterario gli uomini che scrivono come se scrivessero tutto il resto perché invece loro possono scrivere di tutto sia non solo offensivo ma soprattutto molto limitante e molto ingiusto sia nei confronti degli scrittori delle scrittrici sia nei confronti dei lettori e delle lettrici che hanno per fortuna la libertà di poter fare e di poter leggere e di poter scrivere quello che vogliono e quello che gli riesce meglio ora vado a vedere nei commenti sperando che non vi siate ammazzati dunque inforco gli occhiali perché sono vecchia e adesso dunque su youtube mi pare che non ci sia nessuno che è intervenuto io mi sono dimenticata che potevate intervenire anche sulla chat di youtube ma su youtube sono tutti molto silenziosi allora vediamo un attimo su facebook dove ho il mio nucleo di lettori e di seguaci più consistente allora Giovanna Coroni ogni tanto un buono un ottimo romance ci sta io predirigo di solito i romanzi storici o i gialli o i saggi ma lo dico tranquillamente ogni tanto mi piace leggere un romance e appunto concordo con te Galatea nel dire che non deve essere considerato un genere di serie B ma no insomma non esistono generi di serie A generi di serie B cioè come diceva Oscar Wilde non esistono libri morali o immorali esistono soltanto libri scritti bene o scritti male vale per tutti i generi punto e basta ecco questo spero che insomma nel novecento dovremmo essere arrivati almeno a questa acquisizione se no veramente torniamo indietro di millenni Tolkien peraltro senza alcuno pseudonimo scrisse una delle più grandi storie d'amore della storia della letteratura Maitre dall'alto lato per fare anche un solo nome Ursula K. Le Guin ha scritto un ciclo fantasy che è giudicato da pericchi esperti uno dei migliori del genere un'altra volta ancora un giornalista italiano ha gettato una magnifica occasione per tacere ma sì ripeto ma poi insomma non è neanche che basti scrivere una storia d'amore cioè voglio dire le storie d'amore la letteratura se togliamo le storie d'amore restano in punti le virgole quindi non ha proprio senso come ragionamento ecco poi vabbè l'intero genere fantascienza l'ha inventato Mary Shelley con Frankenstein ma chi è il geniaccio che ha scritto l'articolo sì anche qui cioè voglio dire la fantascienza per esempio Mary Shelley con Frankenstein è un esempio classico di donna che scrive un epocale capolavoro peraltro dando la birra agli altri partecipanti alla gara dell'estate del 1812 perché sapete che insomma Frankenstein è il frutto di una gara che era stata fatta tra mi pare Byron Polidori Shelley e Mary Shelley che erano bloccati in questa villa in Svizzera durante l'estate del 1812 in cui appunto c'era un tempo terrificante per colpa dell'esplosione di un vulcano in Indonesia se non ricordo male e quindi si sfidarono a scrivere questo romanzo allora lo chiamavano gotico gli altri sono dimenticabilissimi gli altri romanzi partoriti da quella compagnia di Jenny e invece Mary Shelley le scrisse Frankenstein che è un capolavoro assoluto Sabrina a Triola molto a curte le osservazioni della Liberi non posso a mio parere molto azzeccato sì perché poi insomma ha fatto molto discutere questa cosa e ci sono stati parecchi interventi anche parecchi parecchi interventi anche piccati giustamente come avevo risposto io ad un commento di un amico che scrive leggendo queste cose questo articolo non si sa se ridere o piangere e io ho risposto no si sa cosa fare bisogna incazzarsi perché non ne possiamo più cioè non è possibile perché va bene stare zitti perché dici se no gli dai visibilità ma santo cielo a un certo punto ti arrabbi perché non è possibile andare avanti così cioè siamo nel 2024 basta cioè basta il Degarda di Bingen altra grande scrittrice del Medioevo stavo pensando proprio a lei dunque ho un romanzo molto interessante su Giovanna sì è stata il Degarda di Bingen so protagonista di alcuni romandi di biografie adesso non mi vengo a mettere i nomi ma insomma nella Germania medievale Luca Mazzeo c'è anche Ros Vita riuscirò a dirlo bene il ruolo delle donne nella Germania ottoniana nella letteratura in politica è tremendamente sottoestimato beh anche Teofano di Bisanzio madre di Ottone III era una donna decisamente interessante e importante ecco la Francesca Papasergi ciao amica Francesca sono contenta che tu sia arrivata a casa in realtà con Francesca organizzere dovevamo organizzare una diretta a due ma lei è stata fregata da tre in Italia perché in pratica è rimasta bloccata da un ritardo dei treni e quindi la prossima settimana recupereremo in una diretta Instagram tutto ciò delle fiandre Iris ricorderei Afshesut sì la farauna che per governare si trasvestiva da uomo con barba posticcia e che fu una grande e Caterina la grande sì ma ce ne sono tantissime di donne in politica anche lì il mito che le donne non abbiano mai potuto gestire il potere è un altro di quelle cose che non regge ci sono state delle grandi politiche e non è neanche sempre vero come si è cercato di far credere a lungo nei secoli che siano arrivati al potere solo perché mogli di amanti di o figli di cioè era perché erano delle grandi grandi statiste anche perché poi voglio dire nessuno si sognerebbe di dire di un uomo che è diventato un grande politico solo perché figlio di un politico precedente o perché è ereditato il trono perché era il figlio e grazie era normale questo quando lo fa la donna e vabbè ma era figlia di era la moglie di era la vedova di gestiva il potere perché non poteva fare altro poteva starsene a casa evidentemente se non lo fai perché le piaceva la politica dunque Luca Mazzeo chi crede che le donne non siano in grado di combattere dovrebbe imparare a memoria un nome Sigel Gaita di Salerno sì ma ci sono anche gli esempi di gladiatrici di comandanti donne Artemisia di c'è veramente questa cosa che le donne Zenobia di Palmira la stessa Cleopatra era una scendeva in battaglia anche lei per quanto in maniera più più soft quindi voglio dire è una balla clamorosa che non abbiano mai combattuto erano anche delle buone strateghe per dire Giovanna Corò in Giappone esistevano le famose donne samurai che imparavano a combattere per difendere le proprie famiglie dei nemici quando gli uomini andavano in guerra sì ma probabilmente tantissime l'hanno fatto e che magari non vengono riportate dalle cronache perché anche questo molto spesso diciamo buddhika insomma tutta una serie di donne che comunque sono state anche dei comandanti militari Luca Mazzeo ci sono anche romanzi scritti da donne che hanno avuto un periodo di successo e che poi sono finiti dimenticati o quasi ma certo quello è nel normale la normale biografia di uno scrittore magari è un grande successo improvvisamente poi dopo dieci anni non ti ricorda più nessuno la visione patriarcale ha generato la maggior parte delle nevrosi maschili Saberina Triola sì certo anche perché poi gli uomini per carattere per impostazione patriarcale non possono chiedere aiuto quindi perché è un segno di debolezza quindi anche lì l'accesso per esempio degli uomini agli aiuti psicologici alle cure psichiatriche è molto ridotto dal pregiudizio il che peraltro determina anche il fatto che spesso poi hanno patologie psichiatriche e tentano il suicidio e ci riescono quindi anche questo è un altro portato del patriarcato non possono ammettere di essere deboli e quindi spesso le loro patologie psichiatriche o psicologiche diventano molto più gravi e molto più pericolose per se stessi e anche per gli altri nella letteratura italiana ogni premio nobel italiano ha un suo bel capitolo grazie ad eletta un capoverso e sì anche perché Pirandello la odiava e anche lì quel capoverso spesso è per ricordare che era una donna era una vigrago che aveva un pessimo carattere eccetera perché insomma se uno ha un carattere come diceva Pertini ha un brutto carattere però voglio dire per le donne spesso è un un punto di sopravvivenza se vuoi importi sul lavoro perché se non hai un brutto carattere non ti prendono sul serio è il mio esame di maturità Alessandra Ricci tanti anni fa avevo portato le scrittrici nel novecento come argomento a piacere dopo un minuto mi hanno interrotto con un eh ma parlaci di qualcos'altro il manzoni beh certo perché non era un argomento serio cioè parlare di donne letteratura lasciamo perdere Anna Cotta ciao Cime tempestose di Emily Bronto un'opera meravigliosa certo ma anche quello diciamo così ha una storia d'amore ma non mi risulta che sia proprio romanzo letteratura rosa ecco per dire Federica Esu Caterina di Aragona prima che Enrico Ottavola ripudiasse fu consigliera politica del re era anche regente organizzò persino una vettoriosa guerra contro gli scozzesi per conto del marito e beh insomma era anche veniva fuori dagli Asburgo insomma non era certo una che di potere non ne capiva Paola Michele Matilde di Canossa scendeva in battaglia governava trattava con altri governanti esatto poi se volete andare a vedere un bel film su Matilde di Canossa molto divertente con Susie Bledi andatelo a vedere perché la contessa Matilde perché è veramente molto divertente lo hanno girato Diego Schiavo e Marco Melluso che sono due miei cari amici ma cui voglio molto bene hanno fatto una documedia divertentissima se lo trovate nei cinema o ci deve essere il DVD su Amazon fatelo prendetevelo perché è veramente molto divertente e adesso hanno nelle sale e credo anche forse in DVD ma non ne sono sicura un film su Lucrezia Borgia l'incredibile Lucrezia Borgia quindi guardatelo perché merita adesso vado un attimo su Amazon basta sono stanchissima su Instagram per vedere se ci sono domande spero di sì avevo visto qualcosa dunque non vedo nessun mi era vista una domanda su Instagram allora la lettrice senza tempo bellissimo Nick io mi chiedo da sempre se la letteratura rosa venga vista come di serie B perché si rivolge alle donne o ai sentimenti per cui sono di amore e scrivo nuove poesie se lo fa una donna è robetta sì sostanzialmente è questo il problema cioè qualsiasi cosa scrive a noi è robetta e soprattutto cioè siamo sempre di serie B voglio dire Anna Carienina è un libro con una grande storia d'amore non credo che nessun critico maschio penserebbe mai che fa parte della letteratura rosa non gli è menco mai venuto il dubbio eppure tecnicamente a questo punto allora poi vediamo un po' chi altro c'è avevo visto saluto ovviamente tutti quelli che si sono collegati grazie per essere stati con noi e comunque le Bronte hanno dovuto pubblicare sotto pseudonimo maschile per poter essere prese sul serio ormai 200 e rotti anni fa e siamo ancora qui e anche George Sande e tanti altri voglio dire e tante altre hanno dovuto usare degli pseudonimi proprio per venire prese sul serio perché altrimenti sei una donna che scrive una donna che scrive è un po' come quando ho iniziato io lo racconto spesso andai a proporre quello che poi è Teodora quindi il mio romanzo storico ad un agente letterario e gli dissi per presentarmi e gli dissi beh è un romanzo storico e lui molto convinto disse no no le donne non scrivono romanzi storici al massimo scrivono dei romanzi rosa ambientati in delle epoche storiche ovviamente ho cambiato agente allora tra l'altro vi ricordo che nei prossimi giorni il 24 aprile uscirà il mio prossimo romanzo che ha come protagonista una donna decisamente tosta la dea Afrodite di cui racconteremo la storia da un punto di vista del tutto diverso da quello del solito perché ce l'hanno sempre raccontata come la Barbie dell'Olimpo e invece dimostrerò che non lo era quindi se volete potete preordinarlo nelle vostre biblioteche di fiducia Afrodite è la verità della dea oppure sugli store e su Amazon quindi se volete lo trovate già in preordine uscirà il 24 invece allora poi abbiamo altro su Instagram mi sembra di no saluto tutti quelli che si sono messi in contatto anche su Instagram allora io direi che a questo punto possiamo finire la diretta perché se no è sequestro di persone vi ricordo che grazie ad Alice sarà riascoltabile questa puntata per quanto l'inizio è stato molto confuso anche in podcast le dirette di Galatea su Spotify e noi ci vediamo prossimamente per delle altre dirette forse un po' meno incazzate ma non garantisco perché se continuano a scrivere articoli di questo tipo presumo che saranno dirette burrascose ci vediamo ciao e chiudiamo anche qui ciao grazie a tutti